Proseguono le interviste al Cavalier Siro del Brallo. Buongiorno. Ciao. In questa puntata parleremo del militare. Ai tuoi tempi chiaramente era ancora obbligatorio? Eh sì, io mi sono sposato 22 anni e poi dopo dovevo andare a militare. Ma quanto si faceva di militare ai tuoi tempi? Eh, si faceva un anno e mezzo. E quindi? Ma a che età si faceva? Eh, si faceva vent'anni. Però io ero rimandato e allora sono andato a 22. Come mai? 22 perché ero già sposato. Ma no, ma come mai sei stato rimandato? Rimandato perché avevo fatto una piccola pleurite e sono stato rimandato tramite qualche raccomandazione anche. raccomandazione. E poi sono partito, eri in estate, al mese di luglio. Sono andato a Orvieto. L'anno in cui ti sei sposato o...? L'anno dopo. Quindi eri già sposato da un anno? Sì. E a Orvieto cosa hai fatto? Eh, sono stato l'amano ma al militare non volevo farlo perché avevo la moglie a casa quando si è giovani, no? E allora ho marcato visita, no? E lì ho sentito il medico mi dice Eh, io avevo un po', mancava qualche dente. A quei tempi si usava quella tattica lì che se ti mancava i denti non si doveva fare il militare. Allora mi ha detto se mancasse anche questo dente qui lo mandiamo a casa. Allora io domani sono andato a farmi tirare via il dente, ho marcato visita e questo mi ha mandato a casa. E basta, il tuo militare è finito? Eh, sì. Quindi cosa hai fatto? Un mesetto? Neanche, venti giorni. Solo ad Orvieto? Sì. Nel cinquanta? Tre. Cinquantatré. E basta, e quindi ti hanno, diciamo... Sì. Ti hanno dato il congedo? Sì, congedo caro, sì. Bene. Mentre... Prima, tipo tuo padre l'aveva fatto il militare? No, neanche lui. Come mai? E però preciso non lo so il perché, ma forse perché lui era, ci era mancato, era, ci era mancati i suoi, i suoi genitori. E allora lui era il primo della famiglia, non avendo i genitori e uno era esonerato di andare al militare. In definitiva dicevi che il militare in pratica è come se non l'avessi fatto. E poi ti sei buttato subito sul commercio, anzi... Sì, però... Sono venuto a casa subito e andavo in giro a vendere. Andavo in giro a vendere col cavalino e si capisce che era una persona simpatica. E alla gente piaceva molto. E dove andavo tutti i paesi mi facevano i complimenti. E allora poi è quando che mi sono stabilito al Brallo... Perché quando sei partito per militare dove abitavi? Eh, ero già venuto a abitare a Brallo però... Ah eh... in affitto, in un appartamentino lì... In via Pineta per andare sul Brallo. E poi è arrivato a casa del militare e mi sono messo ad andare in giro a vendere. Che a quei tempi si vendeva a cambio merce. Le davi eh... Un chilo di 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 di... Un chilo di 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 mele e loro ti davano le uova. Gli davi un chilo di 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 riso o di farina. E in cambio merce ti davano le uova. E magari faceva se... Ti facevano segnare sul sul libro. E poi ti paga dopo. Allora l'usanza era quella. Non c'era il Bancomat? No. Va bene. E' cambiato i tempi. Allora racconteremo... Magari la prossima volta racconteremo, non so, dei tempi moderni. Visto che adesso abbiamo raccontato i tempi di una volta. Sì. Alla prossima. Ciao ciao. Grazie.